Pandev Si costringe ad allargarsi Anton Son Quattro uomini dentro l'area Zuniga Amsic Amsic Può colpire Amsic Che gol Marek Amsic Colpisce ancora la prima di campionato Per la quinta volta negli ultimi sei anni Se gli ha subito Amsic Qui attenzione perché Napoli va ancora con Maggio Sguardo in mezzo Si muove Iguain Sul primo palo Iguaini Il due lo chiudono Contatto sospetto Poi Amsic 3-0 Doppietta di Marek Amsic Tiro violentissimo Infattisce ancora il San Paolo